Sushi Ma l'hai mai mangiato il sushi? Io per la verità non ho mai mangiato il giapponese Ci hanno anche le forchette comunque qua Queste due dita Che cos'è questa qui? Mangia, mangia No, no, no No, no, no Nanna Ma l'hai mai mangiato il sushi? No Io per la verità non ho mai mangiato il giapponese Cosa pensi che sia? Non so dire niente Immagino che sia la base di pesce Il sushi è praticamente Un piatto tipico giapponese Pega B Adesso proviamola Nella vita bisogna provare di tutto Sei carico? Sono carico? Adesso posso dire dopo Allora si mangia con le bacchette Devi spezzare a metà Bravo Ci hanno anche le forchette comunque qua Adesso ti insegno Ti insegno io Queste due dita Sopra è bravina dai Cominciamo male Prova prendere a mangiarlo Non invece che il pastrucchialo Perché più lo pastrucchi Più non riesci a mangiarlo Questo qua è un lavoro un po' complicato adesso Prova anche la forchetta Grazie Che roba è? Uramaki Uramaki? Beh adesso si Tom dopo li parlo E poi si mangia Qua va bene Ti piace? Sì Può andare Questa è buona Vuole? Come si? Come? Davvero Mi piaciuto Bene Buono Buono Vuoi provare l'altro? Non c'è Non c'è roba dolce Non c'è roba dolce Ah sai perché il diabete non vorrei andare all'altro mondo Sì Ne vuoi un altro? Sì Mangia Mangia Quello verde l'acqua c'è Uh asamino o no? Puccia La bacchetta in quella sassina lì È molto È piccante No 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 Assaggia Ma una brucia tantissimo È piccante Sono tutte rossi Ma io mangio i peperoni Ma poi niente c'è un pochino di più Ti ha detto che piggia Oh Sa di sapone Sì Sembra di bere della varecchina È assaggia questa qua nonno Non assaggiare lui No? No perché muore lì Fa salsa di soia Ti piace ma è assaggiata No Ah è quella Si mette dentro il piattino Qui Vedete il portacenere Quello lì nonno non è un portacenere Sì No Sì No 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 Aiuto Ti amo che per ferie Quindi La tua esperienza La tua la sushi Ti è piaciuto? Comunque Mi è rimasto molto soddisfatta come la prima volta La mia esperienza su, siccome è la prima volta, mi è piaciuta Pensavi peggio? No, dovrò accompagnarti qualche altra volta No, non ci credo Comunque veramente, non sono scherzo mica Però sono convinta che certe cose sono fatte bene, mi piacciono anche Cosa pensavi? Non lo so, tutto quello che si parla per televisione, tutto è bugia Adesso devi imparare a farlo a casa A casa lasagne, tortelli Quindi preferisci ancora le lasagne e i tortelli? Eh beh, insomma, io quello italiano la mangio da quando sono nata Ma però non è male Esatto, no, molto buono Grazie Grazie dell'invito e di mia nipote che mi ha portato qua Grazie a voi Vogliamo andare, amore? Le posso ottenere queste? Sì, adesso ho a casa, provo Bravo nonna, mi piace Grazie Ah, ma io, non sai che io sono Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi